Buongiorno a tutti, ormai conoscete la procedura, i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande a due colleghi di Roma Radio e Roma TV che ci aiuteranno a far da tramite per porgerle all'allenatore. È presente invece in sala Angelo Mangiante di Sky Sport a cui lasciamo la parola per le domande. Buongiorno. Mila-Roma è anche la grande sfida tra due grandi centravanti. Allora, ci piacerebbe un suo giudizio tecnico. Qual è la qualità in più che ha Dzeko rispetto a Ibra e qual è la qualità che secondo lei Ibra ha in più rispetto a Dzeko? Sono due giocatori importantissimi. Dzeko per la Roma e Ibra e per il Milan. Ma io non voglio fare paragone perché è normale. Io non lavoro tutti i giorni con Ibra e 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 Ibra. Posso parlare di Dzeko, quanto è importante per la nostra squadra. Sono due giocatori che giocano nella stessa posizione con caratteristiche simili, ma per me quello che è importante è Dzeko e vedere che Dzeko è un grandissimo giocatore che sta bene, sta motivato e sicuro che sarà importante per domani. Venendo al Milan, prima in classifica, è una sorta di esame scudetto per la squadra di Pioli. Secondo lei la Roma ha una rosa inferiore al Milan? Milan sta in un grande momento, è una grandissima squadra con un grande allenatore che sta facendo un lavoro bellissimo. Ma penso che noi siamo anche in buon momento, siamo motivati, la squadra è fiduciosa e penso che domani abbiamo una partita molto interessante tatticamente. con le due squadre con l'ambizione di vincere la partita e la Roma voglia dimostrare nel campo che è una grandissima squadra anche e che giocherà per vincere domani. Salve mister, domanda dell'Ansa. Le chiede, in questi giorni visto il crescere dei contagi si è tornato a parlare con insistenza di play-off e play-out per terminare la Serie A. Lei sarebbe favorevole a questo format? Io credo che possiamo rimanere così fino alla fine. Tutte le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il campionato in questo modo. perché io credo che possiamo finire così. Dopo sono ovviamente preoccupato con la situazione in generale e qui una più volte devo dire che tutti noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo rispettare le norme perché è un momento difficile per tutti noi e che dobbiamo dimostrare responsabilità. Domanda della Gazzetta dello Sport. Domani giocherà Mirante ed è confermata l'alternanza in Coppa con Paolo Lopez? Domani giocherà Mirante e dopo io ho deciso partita a partita. Domanda della Repubblica. Nella partita di Coppa schierando giocatori mai presi in considerazione finora ha voluto dimostrare la carenza in alcune posizioni? No, no. La verità è che abbiamo vinto, abbiamo fatto riposare giocatori importanti per questa partita con Milan e abbiamo fatto giocare giocatori che normalmente non hanno giocato e che è molto importante per noi in questo momento fare giocare questi giocatori. Non ho avuto nessuna intenzione di dimostrare oltre cosa che non questa verità che è fare riposare giocatori importanti e usare altri giocatori che per quello è importante fare giocare, fare ritornare a giocare. Solo questo. Domanda ancora su Ibrahimovic dal Corriere dello Sport. Cos'ha Ibrahimovic di diverso dagli altri campioni per essere ancora decisivo a 39 anni e si ferma meglio con i raddoppi oppure tagliandogli i rifornimenti? Per avere questa condizione con 39 anni. Io non lavoro tutti i giorni come ho parlato con Ibrahimovic ma è sicuro che è un grande professionista perché se no non c'è la possibilità di giocare così con 39 anni. Se si ferma meglio raddoppiando le marcature su di lui o evitando che gli arrivino i palloni? Questa partita non è una partita contro Ibrahimovic, è una partita contro Milan. Noi sappiamo la qualità di questa squadra e non preparo la partita pensando che è solo un giocatore. È un giocatore importante per Milan ma noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato questa settimana pensando nella qualità di tutta la squadra di Milan. Il tempo le chiede. Con la partenza di Kolarov manca uno specialista sulle punizioni. State facendo delle esercitazioni specifiche e ci saranno altri giocatori oltre a Pellegrini incaricati a tirarle nelle prossime partite? Sì, dopo l'allenamento facciamo sempre con 4-5 giocatori questo tipo di esercitazioni. Pellegrini per me è quello che è più forte in questo momento ma abbiamo oltre, abbiamo Veretù, abbiamo Brian, abbiamo Mkhitaryan che possono fare bene. Domanda dal romanista. Una curiosità tattica. Il suo sistema di gioco, a prescindere dalla scelta della difesa a 3 o a 4, prevede una difesa sempre molto alta. Ma in base alle caratteristiche dei giocatori non dovrebbe cambiare qualcosa? Se in difesa ad esempio ci sono Cristante e Fazio è prudente tenere una linea alta come se giocassero Smalling o Ibanez? Nel finale di Berna qualcosa in questa maniera si è rischiato. Io capisco la domanda. È vero che abbiamo un difensore centrale più veloce che l'altro ma dipende dalla partita, dipende sempre delle caratteristiche dell'adversario. Possiamo fare più alto, possiamo fare intermedio e dipende anche delle caratteristiche dei nostri giocatori. Ma penso che la squadra in questo momento sta preparata per giocare con la difesa a 3 o a 4, molto alta, ma anche sta preparata per giocare con meno metri indietro alla nostra difesa. Domanda di Rete Sport. A Berna le scelte, soprattutto in difesa, sono dipese dal fatto che lei sapeva della positività di Mancini e per questo immaginava di non averlo a disposizione a Milano e quindi ha voluto preservare Ibanez? No, no, no. La mia scelta non è stata in considerazione l'utilizzazione o non di Mancini. Io ho deciso che era importante fare riposare Ibanez. Domanda di Teleradio Stereo. Sulla fascia destra difensiva ha alternato tutti e tre i giocatori a disposizione. Ha scelto un titolare nel ruolo? Ho scelto per la partita di domani. Dopo è quello che ho detto di Mirante e Pau. La mia decisione è fatta partita a partita. Domanda di Centro Suono Sport. Dal post-lockdown il Milan è risultata la squadra più efficace che riesce a sfruttare al meglio il lavoro fatto in settimana sulle difficoltà dell'avversario. Pioli ha detto che questo avviene perché squadra e società stanno lavorando in armonia. Le chiedono anche se nella sua Roma percepisce grande armonia e se le sembra che anche la sua squadra stia diventando più efficace in campo. Penso che abbiamo creato un'identità forte. Si può creare un'identità quando siamo tutti insieme, tutti contenti, tutti motivati. Penso che gli ultimi risultati e abbiamo una serie di partite molto positiva. È una dimostrazione che siamo tutti insieme, siamo tutti in armonia, siamo tutti motivati e con molta fiducia. Domanda di Roma Radio. In queste prime giornate abbiamo visto cadere alcune delle grandi. Quanto bisognerà aspettare per capire i veri equilibri del campionato? Io voglio dire quello che ho detto. Per me abbiamo due principali candidati, Juve e Inter. E dopo abbiamo un'altra equipa che può fare un bellissimo campionato. Ma questo che è successo in queste prime giornate, prima partita, è una dimostrazione dell'equilibrio, della qualità di questo campionato. È difficile vincere qui una partita. Possiamo giocare con il primo o con l'ultimo, è sempre molto, molto difficile. E questi risultati hanno dimostrato questo equilibrio che c'è qui, in questo campionato. Domanda di Roma TV. In questi ultimi giorni ha svolto lavoro differenziato. Le chiedo come sta Smalling. Sta bene, ma non sta pronto per questa partita con Milan. Io credo che sia possibile fare e ritornare Smalling nella prossima partita per l'Europa League. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.